Un blitz iniziato all'alba di oggi dopo che la magistratura di Genova ha emesso le ordinanze di custodia cautelare per 14 persone accusate di far parte di una rete di fondamentalisti islamici per la maggioranza giovani di nazionalità pakistana che secondo l'accusa progettavano attentati. I cittadini pakistani sono collegati alla cellula diretta da Sam Zahir Mahmood, il 27enne pakistano che il 25 settembre 2020 a Parigi ha compiuto assieme ad un complice un attacco a colpi di macete nei pressi dell'ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo, ferendo quattro persone di cui due in maniera grave. Le indagini, durate mesi, sono partite da Genova. Uno degli indagati vive infatti in provincia di Chiavari, nel Levante Ligure. Nel corso dell'inchiesta i magistrati della direzione distrettuale antiterrorismo del capoluogo Ligure, insieme agli uomini della Digos e del servizio centrale operativo, hanno scoperto che gli islamisti erano radicati soprattutto in Emilia, ma anche in Spagna ed in Francia. L'operazione per questo ha visto anche il coinvolgimento degli uffici antiterrorismo di Spagna e Francia, coordinati dalle CTC, European Counter Terrorism Center di Europol, mesi di intercettazioni, appostamenti e pedinamenti, incrociando dati con le forze di polizia straniere. Le 14 ordinanze di custodia cautelare potrebbero essere solo alla punta di un iceberg, di una cellula terroristica riconducibile ad un più ampio network di giovani pakistani, autodenominatosi Gruppo Gabar, tutti facenti parte dei contatti diretti dell'attentatore di Charlie Hebdo. Oltre agli arresti sono in corso perquisizioni in variazione d'Italia.